Io, prima di tutto, penso che la vittoria di Roma ci abbia strappato come una bottiglia di champagne perché ci voleva questa vittoria. Adesso sicuramente dobbiamo montarci alla destra e dobbiamo restare umili. Però spero che sia servita anche all'ambiente per far capire che questa squadra ha dei valori e sa giocare a calcio perché qua troppo facilmente si fanno i processi e si mette tutto in discussione per una partita storica. Ci sta che durante una stagione ci sono momenti di difficoltà, cali di forma, che non arrivano i risultati e tutto. Poi dopo, allenatore, bisogna cercare di trovare soluzioni e non bisogna perdere mai fiducia. Sicuramente domani se dovessimo vincere con Napoli facciamo un grande assalto ai 90 ma se non dovessimo farlo non ricominciamo subito a parlare di crisi. Secondo me ci vuole più equilibrio nei giudizi e in tutto. Poi naturalmente noi domani come sempre entriamo in campo e giocheremo per vincere. Come sempre poi vediamo se saremo bravi e se riusciremo. Grazie. 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 Grazie.